Per modificare la password della tua firma remota, accedi alla pagina selfcare.firma-remota.it. Nei rispettivi campi inserisci il nome utente indicato in fase di attivazione del tuo account di firma remota. In caso di firma remota acquistata tramite CDRL, rivenditore autorizzato da Aruba, oltre al nome utente è necessario specificare il dominio di appartenenza nella forma nome utente firma remota chiocciola dominio. Inserisci la relativa password e accedi. Dal menu di sinistra seleziona la voce cambio password. Nel forma che si apre digita la password in uso, inserisci una nuova password conforme ai requisiti di sicurezza richiesti, clicca sull'icona indicata per poterli visualizzare e conferma la nuova password. Infine clicca su modifica password. Inserisci un codice OTP generato con un dispositivo associato all'utenza di firma remota. Prosegui. L'operazione è stata eseguita correttamente.